Il 15 febbraio scorso, i carabinieri Compagnia di Randazzo al temine di una complessa e serrata attività investigativa, hanno arrestato in flagranza di reato, due uomini e una donna del posto già noti alle forze dell'ordine per i reati, in concorso, di estorsione e tentato omicidio. I fatti da cui sono partite le indagini risalgono alle prime ore del 15 febbraio, alle quando i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, hanno contattato i carabinieri di Randazzo, poiché allarmati dall'urgente arrivo di una coppia di randazzesi, di 39 e 49 anni, trasportati in ambulanza da quel comune a Catania, proprio a causa delle gravi lesioni subite. In particolare, è stato possibile accertare come quella notte, i malcapitati fossero stati raggiunti in casa da una coppia di uomini e una donna, due dei quali subito identificati dai carabinieri. Uno dei soggetti maschili, un 33enne e la ragazza di 25 anni, venivano infatti riconosciuti poiché già pregiudicati per reati in materia di stupefacenti, mentre l'altro uomo, di anni 22, era stato ripreso con indosso un costume di carnevale da unicorno, che gli copriva anche il capo, circostanza che portava i militari a ritenere che si trattasse un loro amico piuttosto intimo. Chiarito l'ambito in cui era stato consumato il pestaggio hanno in breve tempo stretto il cerchio attorno al trio, scovato mentre si aggiravano ancora per il paese. Fermati e condotti in caserma, la donna veniva sorpresa con addosso alcuni grammi di marijuana. Riguardo agli uomini invece, al momento del fermo uno dei due il 33enne portava ancora i vestiti sporchi di sangue, mentre l'altro, il 22enne, veniva trovato in possesso, presso la sua abitazione, proprio del costume da unicorno immortalato dalle telecamere, intriso da numerose macchie di sangue. Alla luce dei numerosi elementi di prova raccolti i tre autori del delitto, sono stati dichiarati in stato di arresto per estorsione e tentato omicidio in concorso. Nessuna intesa con gli amici di Putin, Ursula von der Leyen, candidata a un secondo mandato alla Commissione e mette i paletti. Putin e Tatarstan per vedere il nuovo bombardiere di Mosca verso un aumento delle spese militari e Zelensky continua a lamentare carenza di munizioni. Due ex suore chiedono a Papa Francesco di avviare un'indagine indipendente nei confronti di Marco Rupnik, artista, sacerdote e gesuita, che avrebbe abusato di loro. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è l'unica candidata alla guida del Partito Popolare europeo. Ad annunciarlo a Bruxelles è lo stesso PPA. Von der Leyen ha reso nota la sua intenzione di candidarsi per un secondo mandato alla Commissione. Nella riunione del gruppo del PPA al Parlamento europeo, la Presidente ha ottenuto il sostegno degli eurodeputati conservatori. Il capo del partito, Manfred Weber, è fiducioso di ottenere un successo elettorale. Secondo i sondaggi, il Partito Popolare europeo rimarrà il gruppo politico più consistente, ma avrà bisogno di alleati per raggiungere la maggioranza parlamentare. Alla domanda su una possibile collaborazione con il gruppo euroscettico dei conservatori e riformisti europei, Ursula von der Leyen ha posto le sue linee di demarcazione. L'avvertimento di Von der Leyen arriva dopo che il ministro ungherese Viktor Orban ha rivelato l'intenzione del suo partito Fidesz di aderire al gruppo conservatori e riformisti dopo le elezioni. Orban è stato ampiamente criticato per aver bloccato per mesi gli sforzi dell'Unione a sostegno dell'Ucraina. Anche il partito polacco, diritto e giustizia, potrebbe essere oggetto del monito in considerazione del conflitto con l'Unione per l'arretramento dello Stato di diritto. La madre di Alexei Navalny ha intentato una causa contro il comitato investigativo russo presso un tribunale della città artica di Salikard per contestare il rifiuto di rilasciare il corpo del figlio. L'udienza dovrebbe svolgersi a porte chiuse il 4 marzo. Lyudmila Navalny sta cercando di recuperare la salma del figlio da 5 giorni. Le autorità russe hanno dichiarato che la causa della morte del dissidente è ancora sconosciuta e che tratterranno il corpo per altri 10 giorni per condurre un'analisi chimica. Intanto il Regno Unito ha imposto sanzioni a sei altri funzionari della colonia penale artica in cui è morto l'oppositore russo, affermando che sono responsabili del trattamento brutale che ha subito negli ultimi mesi di vita. Ai sanzionati sarà vietato di recarsi nel Regno Unito e tutti i beni che potrebbero avere nel paese saranno congelati. Questo venerdì anche la Casa Bianca annuncerà un importante pacchetto di sanzioni contro la Russia in risposta alla morte del dissidente, lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Intanto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha affermato che il modo migliore per onorare Navalny e garantire la sconfitta della Russia in Ucraina. Il governo russo ha dichiarato Radio Free Europe, Radio Liberty, emittente radiofonica che trasmette in 28 lingue un'organizzazione indesiderabile. La nuova etichetta che si aggiunge a quella di agente straniero vieta di fatto alla radio di lavorare in Russia ed espone chiunque collabori con l'emittente a potenziali azioni penali. In Russia si tratta un pacchetto di sanzioni, il pacchetto di sanzioni, che permettono russi e informatiche in Russia in internet, in russi e sociali e sociali ottenere il modo da fiducia con il contesto di contente. E quindi le campioni come VKontakte, Mnru, Odnoklassniki e altre non-viste. Russi i centri E can avere accesso a contente con il contesto di contente, con il competizione con il contesto, fare scrisote e dopo di ita Della amministrativa ha un'attività per l'attività di rinforzamento di questo contenuto. Nell'agosto del 2023 disertò prendendo il controllo di un elicottero da combattimento portandolo in una base aerea ucraina. Il corpo è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco ed è stato trovato in un parcheggio sotterraneo nel comune di Villa Gioiosa, nella provincia di Alicante, dove Kuzminov aveva iniziato una nuova vita con un'altra identità. La notizia della morte di Kuzminov, diffusa inizialmente dai media russi, è stata poi confermata da Andriy Yusov, portavoce dei servizi ucraini di intelligence militare. Il capo dell'intelligence esterna russa, citato dalla TASS, ha invece definito l'elicotterista russo un traditore criminale, che è diventato un cadavere morale già al momento in cui pianificava il suo delitto sporco e terribile. Ancora da chiarire le dinamiche e il movente dell'omicidio, non sarebbero da escludere né la pista della vendetta di Mosca per il tradimento subito, né quella di un regolamento di conti legato alla nuova vita in Spagna. A pochi giorni dal secondo anniversario dell'invasione russa in Ucraina, mercoledì 21 febbraio, Vladimir Putin ha visitato uno stabilimento aeronautico di Kazan, nella Repubblica del Tatarstan. Il sito si starebbe preparando per la produzione di un bombardiere strategico-supersonico ad ala variabile, che può essere equipaggiato con armi nucleari. Nonostante le perdite, gli analisti prevedono che nel 2024 un terzo della spesa pubblica in Russia riguarderà proprio il settore militare. Volodymyr Zelensky continua invece a lamentare una carenza di forniture militari, in particolar modo munizioni, droni e armi, per rispondere alle pressioni sul campo di Mosca. Nel frattempo, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha dichiarato che nel 2024 saranno necessari 3,1 miliardi di dollari di aiuti umanitari per Kiev. Nonostante il sostegno internazionale, sono quasi 6,5 milioni i rifugiati ucraini che hanno cercato rifugio nel mondo, mentre circa 3,7 milioni di persone sono ancora sfollate nel paese. Due ex suore hanno chiesto a Papa Francesco di avviare un'indagine indipendente nei confronti di Marco Rupnik. Il noto artista sacerdote gesuita è accusato di aver abusato sessualmente di una ventina di persone. Dopo anni di denunce da parte di altre suore, il Dipartimento Dottrinale del Vaticano ha raccolto informazioni e sta valutando come procedere. Le istituzioni, invece di prendere spunto dalla nostra esperienza per rivedere il proprio modo di agire, continuano a chiudersi in silenzio, nel silenzio che noi lo percepiamo come muro di gomma che rimbalza ogni tentativo di curare la situazione malsana. In realtà sono successi abusi molto gravi per i quali io persi anche la mia verginità e fui costretta poi ad altri tipi di rapporti intimi che era evidente la mia sofferenza e il mio ribrezzo davanti a questo tipo di richieste. Rupnik, che non ha mai commentato le accuse, è stato espulso dall'ordine dei gesuiti lo scorso anno e si ritiene che si ritrovi da qualche parte nella sua nativa Slovenia. Giuliana Assange ha messo a rischio vite innocenti e quanto sostenuto dagli avvocati statunitensi nel secondo giorno di udienza per la sua estradizione negli Stati Uniti. Il processo d'appello è l'ultimo tentativo del fondatore di Wikileaks di evitare la consegna agli Stati Uniti, dove è accusato di aver violato la legge antispionaggio con la raccolta e pubblicazione di documenti militari e diplomatici riservati. Washington sostiene che con le sue azioni Assange è andato oltre il giornalismo, mentre il giornalista si difende dicendo di aver agito nel pubblico interesse. I turisti turchi potranno visitare dieci isole greche con un visto temporaneo rapido. Lo ha annunciato il primo ministro greco, Kiriakos Mitsotakis, dopo lo storico incontro dello scorso dicembre con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il visto della durata di sette giorni sarà concesso in loco e sarà valido per molte delle isole dell'Egea orientale vicine alla costa turca, che da anni attirano visitatori dalla Turquia, nonostante le tensioni trattano e Ankara. I turisti in area del turismo e del politismo. I simi dèche da molti cosmii da Turquia e soprattutto molti pesi da Turquia. Il numero di settembre è stato 1.400 pesi che fanno esodo nel telonio di Simi. Un numero che non lo piongono oltre il Rodos. potete capire che la visa avvicinare molto e molto i turcini epischi che vogliono epischiare questa schiama. Finora i visitatori turchi dovevano presentare i documenti presso il Consolato greco di Smirne e attenderne l'approvazione. Ora potranno seguire questa procedura rapida al loro arrivo. Secondo le autorità locali sono già migliaia gli interessati. Grazie a tutti. La gente delle isole interessate spinge per applicare la nuova norma il prima possibile, così da poter ricevere più persone dalla Turquia già da quest'estate. Iniziati i lavori di ripristino del baldacchino di Gian Lorenzo Bernini nella Basilica di San Pietro in Vaticano. L'intervento sull'opera monumentale realizzata nel Seicento durerà circa dieci mesi. Si concluderà entro la fine di novembre in tempo per il giubileo del 2025. L'intervento è un intervento di restauro prodromico, una conservazione che speriamo per altri duecento anni, ma di fatto l'ultimo grande restauro è stato fatto 250 anni fa. L'ultimo intervento risale infatti al 1758. Il restauro attuale costerà circa 700 mila euro. Le celebrazioni del Papa, a partire da quella di Pasqua, si potranno comunque svolgere in sicurezza. Grazie a tutti.